Ciao da Francesco di Portierecalcio.it e benvenuto al primo episodio di Parole tra i pali, il nostro nuovo podcast. Era un progetto che avevamo in serbo da settimane, se non addirittura mesi, però per motivi di tempo, per motivi di altre cose da fare, non riuscivamo mai a sviluppare concretamente. Adesso, stante purtroppo la spiacevole situazione che stiamo vivendo in queste settimane, abbiamo avuto modo di organizzare meglio il lavoro e quindi di portare concretamente in vita questo nuovo strumento, che spero ovviamente possa piacerti perché sarà un ulteriore modo di raccontarci e raccontare cose legate alla nostra attività e al mondo dei portieri. Prima di introdurre però specificatamente l'argomento di questa prima puntata, voglio raccontare come siamo arrivati al nome di Parole tra i pali. Inizialmente c'erano diverse idee, usare un Paratalk o Parapod, Paracast, con riferimento ovviamente alla trasmissione in diretta che facciamo su YouTube e Facebook il giovedì sera alle 18. Però non suonava bene o comunque non volevamo essere ripetitivi, volevamo creare un nome che fosse maggiormente evocativo. Io avevo pensato cose da portiere ma era un titolo provvisorio, quindi ho pensato bene di lanciare l'iniziativa nel nostro gruppo Telegram, vedendo un po' se alcuni dei partecipanti avessero una buona idea. Così è stato, per la precisione Gianluigi Angotti, che ringrazio, ha lanciato la parola Parole tra i pali, che ci è subito piaciuto, un attimo l'ho tenuto in, diciamo da parte, non perché non mi piacesse anzi, però poi, ascoltandolo, ripetendomelo, leggendo anche le altre ipotesi, alcune valide e altre simpatiche, ho cominciato a sentirlo mio, sentirlo adatto a quello che dovrebbe essere l'obiettivo di questo podcast. Fatta questa doverosa introduzione, arrivo subito al dunque, quindi l'argomento di questo primo episodio, di questa prima puntata, che riguarda esattamente la manutenzione dei guanti e il modo in cui conservarli in questi giorni in cui purtroppo ci è impedito di giocare, di scendere in campo, di allenarci, di disputare le partite che erano previste fino al termine della primavera per tutti quelli che fanno campionati. Ora do per scontato che tu abbia almeno un paio di guanti da portiere. Facciamo il caso che tu li abbia lasciati nel borsone o non ci stia pensando in questo momento. Bene, lasciare i guanti incustoditi, sporchi, in questi giorni può essere deleterio per la loro efficacia, per il loro corretto funzionamento, una volta che tornerai ad utilizzarli. Cosa fare quindi? Allora, innanzitutto recuperiamoli, vediamo in quale stato sono e procediamo immediatamente all'operazione di pulizia e lavaggio. Ora, se ti stai dirigendo o pensi di dirigerti verso la lavatrice, lascia perdere. Noi consigliamo vivamente, come poi fanno tutti i produttori di guanti, di pulirli in questa maniera, perché il lattice rischierebbe di rovinarsi, ma anche il guanto stesso, comunque sottoposto al lavaggio in lavatrice, potrebbe risentirne. Quindi, armati di buona volontà, dirigiti o verso il lavandino, o verso il lavello, prendi una bacinella e riempila di acqua tiepida, temperatura ambiente tiepida, comunque non calda. Dotati di un detergente specifico per guanti da portiere, oppure comunque un detergente per capi delicati, sapone di marsiglia, qualcosa di non troppo aggressivo, perché ricordiamo sempre che il lattice è una mescola molto soffice, leggera, quindi potrebbe rovinarsi durante questa operazione. Ora, non voglio fare terrorismo, ci mancherebbe, si può essere anche aggressivi durante il lavaggio, però è corretto utilizzare detergenti adeguati. Per quanto riguarda la procedura fisica concreta, ti rimando al video presente nella descrizione. In fondo troverai tutti i link utili degli argomenti che sto trattando durante questo episodio. Quindi meglio un video piuttosto che ascoltare quello che, poi comunque adesso ti dico molto brevemente, bagnare i guanti, iniziare a far spurgare un po' di sporco sia sul dorso che sul palmo, dopodiché mettere il detergente sul lattice e con i polpastrelli lavorare affinché lo sporco esca dal guanto. Poi si può ripetere quest'operazione due o tre volte, si può cambiare l'acqua così da togliere l'acqua sporca. Comunque, completato questo lavoro, dopo alcuni minuti, altra cosa molto importante è di far asciugare i guanti lontano da fonti di luce e calore dirette. Quindi io consiglio di lasciarli nel lavandino, nel lavello, di metterli nella vasca, nel piano della doccia, in maniera tale comunque che l'acqua tenda a cadere dal... e non ristagni nel guanto stesso. Quindi non esporli al sole, non metterli sui termosifoni, non usare il fondo. Vabbè, non dico metterli nel mordo perché ovviamente non è il caso. Quindi, con tranquillità, li si lascia asciugare, non è necessario che ci sia il buio, adesso non nessuna esagerazione. Nella vasca, io faccio abitualmente così, li faccio sgocciolare e nel giro di qualche ora, diciamo realisticamente, più realisticamente, un giorno, il guanto sarà pronto per essere riutilizzato. Con questo però non abbiamo finito, anche perché stavamo dicendo che, dato che la puntata viene registrata in questi giorni in cui siamo obbligati a non poter giocare, se fortunatamente quando starei ascoltando questo episodio la situazione sarà migliorata e staremo già giocando, puoi comunque prendere in considerazione il consiglio su come puoi conservare i guanti quando non si utilizzano. Se sei ancora in possesso della confezione dei guanti o se questa non è adatta, hai comunque una vecchia confezione o una borsa portaguanti, il consiglio è quello di mettere questi al loro interno evitando di metterli palmo su palmo, perché se il palmo è attivato questi potrebbero attaccarsi tra loro e asciugandosi poi potrebbero creare un'adesività tale che nel momento in cui si vanno a riprendere il lattice potrebbe rovinarsi. Quindi non conservarli palmo su palmo, ma palmo d'orso, palmo d'orso. Un altro consiglio importante è quello di utilizzare anche un foglio di carta, carta forno tra i due guanti, questo per impedire comunque che anche il palmo su d'orso possa comportare delle problematiche, quindi si possa attaccare, perché soprattutto su alcuni guanti che hanno il dorsi in lattice questa situazione potrebbe comunque venire a presentarsi. E non da ultimo, dimenticavo, ho citato le confezioni, le borse portaguanti, però volendo possiamo utilizzare anche un asciugamano, non c'è problema. L'importante è che i guanti siano coperti e che quindi non vengano a contatto con altre cose presenti nel borsone oppure se li vuoi tenere in un cassetto, in un armadio. Così possono anche non prendere la polvere, è un eccesso di zelo che male non fa. E con quest'ultimo suggerimento si conclude la prima puntata di Parole Tre Pani. Spero che i consigli dati possano esserti utili, se già ne eri a conoscenza comunque un ripasso male non fa, ma soprattutto ti invito ad ascoltare anche le prossime puntate. Se sei qui all'uscita del primo episodio ti ringrazio ancora di più, perché ciò dimostra l'attaccamento nei miei confronti, nei nostri confronti